precocemente tutte quelle condizioni di rischio che poi possono essere collegate all'insorgenza e più facilmente anche all'accesso ai comportamenti a rischio. Questo però ci rivela anche un altro aspetto molto importante ovvero la famiglia al centro di queste problematiche ma soprattutto al centro della prevenzione efficace dei comportamenti a rischio. Esserci fisicamente, emotivamente per i nostri figli è la prima opera di prevenzione perché se il genitore c'è non solo fisicamente a casa per considerare per esempio il tempo che quel ragazzo trascorre sulla rete ma anche emotivamente quindi un genitore capace di instaurare con lui un dialogo emotivamente appagante con il ragazzo basato appunto sulla fiducia reciproca può veramente proteggerli non solo dal punto di vista comportamentale ma direi quasi dal di dentro, dal profondo del cuore di quel ragazzo che sentendosi appunto profondamente amato già per questo è più forte. Questo appunto dicevo parallelamente anche a un aspetto educativo e in questo la bioetica gioca un ruolo importantissimo basato proprio sulla dignità e sul valore della persona umana capace di ricucire quel senso che i giovanissimi, gli adolescenti, gli adulti poi sembra abbiano perduto in una società come la nostra. Io vi ringrazio dell'ascolto e vi aspetto alla prossima puntata del diario di bioetica. Oggi c'è Radio Roma Libera punto org la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org